ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi un video soft realizzeremo per l'estate una collana coloratissima in realtà la devo realizzare per una persona non è nulla di di nuovo di chissà quanto particolare però ho detto già che ci sono un giro il video per il canale ho già realizzato una e ho utilizzato questa catena sottile in acciaio perché appunto questa persona non la vuole togliere mai la vuole utilizzare sempre quindi anche quando fa la doccia quando dorme quindi anziché utilizzare il filo che a lunga andare soprattutto con l'acqua può rovinarsi può rompersi così come anche il cavetto acciaio preferito utilizzare questo tipo di catenina e per fortuna i fori di queste perline sono abbastanza tra virgolette grandi da entrarci altrimenti se avessi dovuto utilizzare le normali rocai tipo anche le 8.0 forse con le to infatti ho provato un tipo di to ci sarei riuscita mentre con le miyuki proprio no perché delle miyuki ho più colori quindi poi si è optato per queste perline per questi cubetti tutti colorati e adesso la realizzerò con queste perline peishi non so se ho pronunciato bene sono tutte colorate ho già tagliato la catena della misura giusta poi vado ad inserire in aiuto con le pinze inserire l'anellino nella maglia ecco questi per fortuna sono adatti perché non tutti ci entrano poi l'anellino lo sistemo lo chiudo bene lo faccio a brisè per sicurezza poi inserisco un altro perché questo è troppo piccolino insomma mi blocco l'altra estremità così poi le perline non non scappano tolgo questa dalla visuale metto le perline ishi e poi parto insomma con l'inserimento salto il blu magari lo inserisco tra poco ed è rilassante anche lavorare in questo modo spero di di darvi un'idea tempo fa avevo realizzato anche di dei bracciali sempre utilizzando questa catenina utilizzato dei cipollotti delle perle di acqua dolce così almeno sono sicura della resistenza della catena lo faccio fino a un certo punto poi proseguo altrimenti il video verrà davvero bellissimo per quanto riguarda le colorazioni sto procedendo a saltarello però ecco così non mi piacciono poi ricomincio da capo vediamo vediamo blu ci sono poi due arancioni che apparentemente sembrano diversi però poi sembrano uguali questi due questo sembra più opaco più scuro questo più acceso però poi non lo so sembrano uguali quindi non ho ben compreso la differenza poi sono al rosa shopping poi questo troverte l'altro arancio però come vi ho detto non lo so io li vedo uguali comunque anche se sono diversi forse si noto mistero arancio poi questo poi si ricomincia da capo quindi poi parto con questo riparto con questo verde acqua poi c'è lilla il blu il nero lo salto proprio perché la colana comunque deve essere super colorata quindi non mi sembra il caso utilizzare il nero non lo utilizzo mai 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 quasi mai ovviamente sembra dovessero chiedere sì però non è un colore che mi piace poi dopo il blu c'è questa ragione poi il rosa shocking ecco se si potesse utilizzare questa catena anche con quello che io lo chiamo grande ago magari vi lascio il link nell'info box di quel video che si può utilizzare per il filo elastico sarebbe fantastico almeno si inseriscono tutte le perline perché questo ago per chi non l'aveste visto è abbastanza grande da poterci inserire tutte le perline poi inserirle direttamente fare addirittura una collana immediata quindi se io incuriosito poi potete guardare nell'info box e il video ve lo lascio lì ed è davvero comodissimo poi questo verde poi questo arancio adesso io faccio io faccio un nuovo inserimento proseguo fino a che non raggiungo l'altra estremità e poi chiudo insieme a voi devo dire che è uscita una collana bella morbida morbidosa qui tengo altrimenti fuoriescono tutte le perline che ho inserito lascio un po di catena così riesco a chiudere qui c'è l'anellino che poi trasformo diciamo ecco adesso mentre prima entrato subito adesso ecco 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 ok quindi adesso chiudo qui anzi metterlo adesso appunto come vi ho detto lo faccio in questo modo poi inserisco qua l'altro anellino e il moschettone anche dall'altro lato inserisco questo tipo di anellino che lascio con la chiusura normale poi il sistema meglio ovviamente e qui poi aggiusto anche l'anellino di sotto ed ecco qui la collanina pronta super estiva e colorata e bella morbida anche ciao